new food tv a proda qui a venezia insieme a sapori di napoli e accademia nazionale pizza doc per raccontarvi il festival internazionale del cinema di venezia ovvero la settantasettesima edizione da un'altra angolazione quella del food noi saremo all'interno dell'hollywood celebrity lounge per raccontarvi quello che mangiano i vip e non solo quindi state con noi e godetevi come sempre le immagini this has been stuck to me burn this has been stuck to me burn tire late to crawl tire late to crawl